Ciao a tutti, allora intanto approfittiamo per imbriagarci, approfittiamo il nostro sponsor e non è vero che è il nostro sponsor, lo dico, infatti vedi che ce l'abbiamo al contrario il legal team mi ha chiesto di dire che non è il nostro sponsor, coprite i loghi così oggi non abbiamo grappe, di solito questo è il podcast della grappa, ma oggi non abbiamo grappe è finita ma chi doveva portarla non ha ancora riportato la grappa chi doveva portarla? Daniele, avrei potuto sapendolo portare un mirto fatto in casa urca, vedi che noi dobbiamo chiedere le cose agli ospiti da aggiungere nella mail in cui chiediamo l'immagine della puntata di portare della grappa giusto, chiediamo l'immagine e chiediamo anche qual è un obolo, un obolo alcolico qual è l'alcol che ci porterà, noi qua abbiamo l'usanza di far portare agli ospiti l'alcol in realtà quando tornerà Daniele ci porterà l'altra, un'altra grappa, la stessa grappa dell'altra volta penso di sì quella alla pera quella di pere sì, non alla pera, di pere, è diverso vabbè è come il sake di riso o con riso, no con riso con riso in genere è il riso con il sake è un po' che è di sake un po' che è di sake beh se sfumi il riso con il sake esatto puoi fare il risotto giapponese perché lo fanno con il sake? non fanno il risotto però non fanno il risotto, fanno il risotto al vapore avrei un ponte da venderti hai un ponte? sì dove hai? sullo stretto no perché ah fanno il riso così in Giappone sì ho un ponte da venderti mi sembra che abbocchio abbastanza facilmente scherzo sto scherzando senti guarda che io so le cose certo qua serve per fare contenuto lo so e lo vedo tutte le mattine grazie grazie bravo hai delle ottime scelte guarda che c'è Francesco che ci saluta ciao ciao Francesco ciao Francesco raccontaci qualcosa raccontaci il tuo sake preferito io sono stato tra l'altro recentemente a un ristorante giapponese vicino a casa mi hanno offerto un sake perché avevano appena aperto però un sake freddo a me un sake freddo insomma preferisco caldo caldo sì il licorino invece lì era un sake tipo vino da bere durante il pasto da pasto poi ci hanno portato a fine pasto e non so quanto costava quella bottiglia perché in menù avevo una bottiglia da tipo 70 euro non era quella sicuramente non era quella credo di no però comunque non è costoso che hai mangiato? beh ho mangiato il mio il mio classico piatto giapponese è udon al brodo in curry brodo in curry c'è brodo al curry con curry con riso di curry con cotoletta ah tonkatsu tonkatsu carri udon cotoletta la bolognese no cotoletta la giapponese che esiste no? certo la bolognese esiste però ecco il prosciutto e il formaggio quindi non verrebbe benissimo no l'altro giorno a pranzo un amico mi ha fatto vedere una foto di è stato recentemente in giappone coppa gelato con del gelato ovviamente e sopra un tonkatsu ah però ho avuto perché no io dico perché no devo andare in giappone a settembre e mi hai appunto tutte queste cose anch'io meraviglia tonkatsu la cotoletta di pollo panata fritta si chiama tonkatsu ma scusami ma il gelato era era salato spero no no era dolce dolce gelato vaniglia non mi ricordo con sopra la cotoletta c'è della follia però in questo sì sì è gelato con la cotoletta è un po' da non credo ma è gelato con la cotoletta alla cotoletta o di cotoletta ecco il gelato di cotoletta si potrebbe anche provare ma comunque i gelati salati li fanno il famoso pistacchio no ma non quel tipo di salato c'è proprio salato tipo gelato alla alla certosa il fior di capra fanno vicino a casa mia guarda io molto buono un'osteria bolognese dove vado spesso all'aperitivo caramello ti servono anche i gelati di vari formaggi c'è anche gorgonzola tipo e sono buoni sono buoni con dei crostini delle cose i carcherini vabbè c'è pure il gelato alla nuia pronto mai? no questo non è non esiste però è vero potrebbe esistere potrebbe esistere sarebbe bello esiste sicuramente esiste siamo i nostri amici calabresi infatti tipo Marco Cefala dov'è? c'è sempre è arrivato Brian ciao Brian ciao Brian chiama Marco per favore che dobbiamo chiedere una cosa sulla Calabria anzi adesso scriviamo su Slack così intercettiamo i calabresi sicuramente esisterà il gelato all'anduia ma figurati se non esiste tra l'altro come va la luminosità? mi sembra ok direi ok direi ok ovviamente come sempre il il videoloco qua è inutile soprattutto adesso che c'è tanta luce non si vede niente poi c'è la sedia comunque non serve a niente dobbiamo ristrutturare tutto assolutamente sì solo che tirarlo fuori dalla nicchia è complesso è complesso sì vabbè dovremmo rifare qua vabbè tu come mai hai mangiato una pizza alle 4 spiegami hai saltato pranzo ma da Mimmo 3 l'hai presa qui sotto? egiziano era credo sì egiziano non so credo fosse Mimmo 3 è da questo lato della strada o dall'altro lato della strada? c'era anche il kebab sì ma tutti fanno anche il kebab ah sì anche Mimmo 3 no Mimmo 3 secondo me no ah no faceva gli hamburger c'era la pizza egiziana ma non ho visto kebab allora Mimmo 3 grande scelta Mimmo 3 ma secondo me il competitor di Mimmo 3 è più buono però è questo quello di fronte a Mimmo 3 ti assumi la tua responsabilità sì sì potrebbe salire adesso a picchiarci quello che fa anche chi che è il nostro sponsor sì ci ascolta sempre ciao Luca ma come si chiama il competitor di Mimmo 3 non mi ricordo amici ah amici esatto pizza amici pizza amici ed entrate ma non di Mimmo 3 no amici di tutti tranne che di Mimmo 3 esatto tanto Mimmo 3 abbiamo sempre il dubbio che sia il terzo negozio di Mimmo o no o semplicemente Mimmo 3 perché per far vedere che la catena è come edo 81 esatto esatto quando hanno registrato il nome Mimmo non era disponibile 1, 2 non c'è 3 ha preso ha registrato l'url è sempre preso così ho anche Valeria e anche Luca mancanza di calabresi però qua avevamo bisogno di calabresi chiamate un calabrese ci dicono di alzare il volume di Paolo allora guardate che so fare tutto tu Paolo sei il blu oggi Edo è regista in training esatto blu eccolo qua prova prova il gelato aspetta so anche guarda posso andare qua a vedere tipo i canali tipo il 3 tipo i livelli e vedi che è un po' basso parla di qualcosa sa prova no l'interno è giusto sa lo dirò tutta la puntata la parola che userò di più sa salsa però sento un qualcosa che taglia no tagli niente che tagli tagli niente c'è un po' di noise gate che però è necessario perché sennò si sente tutto il respiro il ritardo il noise gate mi sento respirare che poi sparisce e ho sempre la paura di rimanere annegato non respirare non respirare togli le cuffie togli le cuffie non lo senti più potrei togliere le cuffie secondo me è meglio così credite va bene è uguale a prima per noi quindi va bene però io almeno non mi sento sei liberissimo di farlo ma ti sento ma però ti do un suggerimento incredibile se tu ti alzi un pochino l'asta e ti avvicini al microfono ok potrebbe essere che sentono ecco vedi c'è la tempesta sa 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 che esattamente sa 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 che mimo con semartic visioning esatto io provo senza cuffie per un po' avete portato la genziana eh no no ho una cosa da dire che è utile per tutti se non tieni le cuffie appoggiale perché rischia poi di fare effetto larsen fastidiosissimo esatto fa contatto con la barba coraggiosamente sulla tastiera grande no farà partire un deploy di qualcosa a caso esatto faccio partire una cosa tipo questa badunce bello questo è Paolo che diventa Sailor Moon Sailor Paolo il mio volume invece mi sento basso come mi sento? mi sento bene? dai va bene va bene effetto Larsen Ulrich questa è simpatica l'hanno capita in pochi ma no ci sono un sacco di metallari comunque siamo quasi addirittura di partenza vero? perché sono le 58 mancano due minuti siete pronti? siete carichi? molto avete letto la scaletta? avete letto la scaletta? sì sì l'ho letto ho appena dei suggerimenti guarda che mi hanno scritto grazie che hai invitato Jody sicuramente giuro so dalla community Microsoft non faccio nomi dopo però palesati tu che sai mi hanno scritto grazie che hai chiamato Jody ok devo risultarmi ho capito quindi hai uno status da rispettare sicuramente rispettative altissime vai 59 direi che partiamo con il countdown e ci vediamo poi per la puntata ufficiale grazie a tutti eccoci qui buonasera tutte e buonasera a tutti bentornati in un nuovo episodio di continuous delivery devo farlo io aspetta che meraviglia che meraviglia perché stasera voglio giocare con questo mixer ho strappato il mixer dalle mani di claudio che gli ero ceduto molto volentieri così può alle mani libere per la birra esatto e posso io pilotare questa meravigliosa console potrei anche essere triste per esempio devo cambiare le cose io non capisco che sed vuol dire questo sed trombone anche il colore i colori li ha decisi la road quando ha fatto non siamo bravi non siamo bravi a gestire i podcast ecco va bene quindi bentornati non bisogna di continuous delivery che è sempre un podcast creato e sostenuto da spar fabric vedete che il nostro ospite sta bevendo giustamente perché oggi nonostante siamo un podcast della grappa oggi non abbiamo grappa e quindi abbiamo siamo dovuti ricorrere alla volgare che non sponsorizza il nostro podcast ma è comunque ci tiene non ancora non ancora per ora ma ci tiene vivi e attivi quindi sappiate se non sapete se siete capitati qua per la prima volta che questo podcast va in onda ogni due martedì a martedì alterni ecco live qua dagli studi di spark fabric in milano e parliamo di tecnologie naturalmente abbiamo sempre degli ospiti meravigliosi incredibili sensazionali quasi sempre e siamo su youtube e su twitch in diretta poi ci trovate dalla mattina successiva in podcast su tutte le principali piattaforme dove vi pare se volete avere qualche altro dettaglio in più sulla nostra pubblicazione sui sulla puntata che facciamo sulle cose iscrivetevi al gruppo telegram bastate che andate su telegram cercate la strana mia birra cercate cercate continuous delivery e basta continuo stai liberi vi iscrivete al gruppo telegram così vedete tutti i link tutte le cose le anticipazioni sugli episodi eccetera eccetera quindi sono contentissimo di dare il bentornato intanto a paolo mainardi che è qua ciao a tutti ciao paolo e un benvenuto a claudio ti ha già salutato ma è sottinteso ciao lui è claudio io sono edo quindi ecco e un benvenuto a anzi bentornato anche a te in realtà perché è la seconda volta che sei però è la prima volta che sei fisicamente presente qui quindi un bentornato a continuous delivery giody donetti grazie grazie ecco tra l'altro se non vado errato uno dei primi ospiti del podcast forse era la prima stagione era sicuramente era la prima stagione sì 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 solo audio però sì eravamo ancora vedi eravamo veramente piccoli solo audio giovani vergugno non speriamo fare niente tutti da remoto e c'è qua a assaporare la birra vedi quanta strada abbiamo fatto ci hai visti crescere ci segui sempre ci seguiva sempre ci seguiva sempre adesso poi da quando siamo in video è solo audio ok ma in video no devo anche comunicare un'altra cosa che il 20 giugno si terrà a bologna l'edizione 2024 di casey di italy che cos'è casey di italy è kubernetes community days community day day sì perché un giorno solo è uno e quindi quindi day è il 20 giugno ripeto a bologna e insomma è un evento community cncf dedicato all'italia quindi si parla di kubernetes e un po in generale di progetti cncf progetti open source insomma se vi interessano questi argomenti andate sulla pagina di casey di italy che poi metteremo su telegram abbiamo insomma i link dappertutto è già nella descrizione della puntata bravissimo è anche nella descrizione della puntata così se vi interessa questa roba vi iscrivete venite a meet up ci sono tanti tanti speaker interessanti tra l'altro stiamo proprio in chiusura adesso della line up e ci sono dei posti ancora disponibili quindi se volete prendere i biglietti ci vediamo ripeto 20 giugno a bologna ciao a tutta la chat oh guarda jody ti sta salutando ai cè saluta saluta hai una fan nel pubblico ciao a scena stefano invece vuole parlare di ai ma no si parla anche di ai? no dai magari qualcosina no domanda bors no ma intendi nella puntata di oggi io penso al casey di al casey di no al casey di non credo riprendendo la puntata che abbiamo fatto pochi giorni fa sul esatto era un inside joke per le persone che seguono questo podcast ma siccome che non comprendono edo che non ha capito l'insight joke me non capisco nulla le persone che ascoltano non che lo fanno dopo un sorso di birra io non capisco più niente quindi potete fare tutti gli scherzi che volete anzi guarda ecco così siamo subito in tendenza allora di cosa stiamo qua a parlare in realtà oggi? stiamo qua a parlare con jody jody ti abbiamo invitato perché secondo te? così? perché ci sei simpatico? credo per parlare di cibo e alcol assolutamente sì abbiamo infatti in anteprima parlavamo di Mimmo 3 della pizzeria migliore del quartiere secondo alcuni malfidenti che invece non sono fan di pizza amici pizza amici ecco che noi siamo molto coinvolti emotivamente no invece ti abbiamo invitato perché noi vogliamo in questo podcast noi spesso siamo qua a parlare di open source l'open source ci ispira l'open source è vita è vita è vitalità e tu sei un ormai volente o nolente sei un pezzo importante dell'open source direi mondiale di Linus Torvalds della cash direi mondiale guarda tu adesso ecco guarda immaginavo gli insulti ma non pensavo fino a questo punto no no poi ne parleremo guarda c'è Diego che saluta in chat ti dicevo che qualcuno attendeva il tuo ospitato eccolo lì ciao Diego Diego palesati sei fan tu hai un fan I'm fan in Diego mi dispiace per te ma grazie noi oggi volevamo parlare del tuo contributo all'open source perché allora facciamo una premessa perché forse non sapete che Jody è un contributor anzi facciamo così è un maintainer è un contributor ma è un maintainer di una libreria libreria software libreria un libreria che si chiama Fusion Cash poi naturalmente il link lo metteremo nelle descrizioni e tutto quanto e è una libreria che quanti anni hai rilasciata? l'ho rilasciata la notte del 31 dicembre wow 2020 proprio pieno covid quando ancora si pensava adesso finisce quindi tra amici così beh no aspetta che finisce sto periodo perché insomma porta male invece io che non credo in queste cose ho detto no 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 2020 pieno voglio voglio esserci dentro quindi 31 dicembre tipo 7 e mezza di sera pam rilasciato e niente è da lì da allora e per inciso quando dici ah open source è il mio primo e unico progetto open source ad oggi quindi quello non sono in molti quelli che possono dire ho un progetto open source comunque però prima di fare questo avevi già fatto contribuzioni allora contribuito con qualcosina sì ma ho sempre sentito di non aver fatto mai abbastanza come tutti quelli che fanno il nostro mestiere ho preso a pieni mani progetti librerie dal jQuery di turno a che ne so Linux la qualunque e ho fatto alcune contribution piccole PR piuttosto che signalazioni di bug cose di questo tipo qualcosa di commentazione però mi sembrava di non aver dato abbastanza e allora a un certo punto e qui dico un po' la genesi di Fusion Cash mi sono detto ma forse aveva fatto il momento di metterci la faccia mettiamo così seppur nel mio caso disegnata e ho detto dove potrei forse avere qualcosina da dire e ripercorrendo un po' diciamo il mio percorso e la mia carriera professionale ho pensato beh lì qualcosa diciamo forse l'ho imparato non dico tanto da insegnare agli altri ma almeno da condividere le mie esperienze in modo che qualcuno che ha avuto gli stessi problemi che ho avuto io e che ha avuto un po' chiunque che ha avuto che fare con accesso ai dati caching magari si trovi una soluzione pronta con una sorta di logica chiara e facile da usare l'idea era il just works sempre quello appunto d'arrivo ideale e per inciso nel 2019 quando ho iniziato a più o meno a pensare di fare fusion cache a progettarlo è uscito un blog post di Nick Craver che fa parte del cosetto quello che chiamo il dynamic duo Nick Craver e Mark Gravel che erano i due top diciamo tecnici top di Stag Overflow fatto tra parentesi in .net su due server tra l'altro no beh due no però sì mi pare che i primi dieci anni ah sì sì i primi anni erano poche macchine adesso sono molto più espansi però comunque l'utilizzo molto basso perché usano veramente poco per cento di CPU e on-prem e tutto e hanno fatto un post che si chiamava How We Do Upcaching at Stag Overflow 2019 leggendo quel blog post molto interessante ho ritrovato alcune delle idee che mi ero fatto negli anni sono decenni ormai e quindi ho detto ah allora non sono idee così stupide tutto sommato non sono proprio idiozie che comunque io ho fatto ho pensato funzionano le ho viste funzionano in produzione per anni ma sai è la tua cosa del tuo scantinatino del tuo angolino allora tutto sommato potrei provare a mettere quelle esperienze che coincidevano in gran parte non in tutto con l'esperienza di Stag Overflow sotto forma di libreria liberamente usabile eccetera perché tra l'altro loro che facevano molte librerie open source non avevano per quella parte una libreria e non l'hanno ancora oggi e quindi da lì è nato Fusion Cash quindi hai iniziato a scriverlo dopo aver letto quel post diciamo che beh negli anni ho fatto e rifatto le stesse cose tante volte per i progetti su cui lavoravo quel post mi ha dato un po' diciamo la cosiddetta validazione certo delle conferme allora è ora di esatto è ora di metterci la faccia e da lì ho iniziato a lavorarci e rilasciato appunto fine 2020 in realtà era pronto a livello di codice tipo metà 2020 però essendo anche il primo essendo un po' perfezionista diciamo un po' micrognoso così dicevo no aspetta però logo documentazione sei partito dalle cose su cui prima il codice quando poi il codice era pronto in teoria avrei potuto rilasciarlo e spesso giustamente il progetto open source che ricordiamolo sono ore e ore mesi di lavoro gratis che la gente regala a tutti e quindi spesso escono con tra virgolette il minimo essenziale nel senso il codice non c'è una riga di documentazione non c'è niente di che quindi è anche un po' più difficile approcciarli e quindi va benissimo nel mio caso ho detto no però è il primo che faccio ci ho messo tanto tempo facciamo proviamo a farlo step in più e quindi voglio apparecchiarlo apparecchiarlo ma soprattutto dico la verità ho pensato anche a chi da fuori avesse avuto bisogno di iniziare a usarlo come lo uso perché poi puoi avere l'API più intelligibile più user friendly del mondo ma un minimo devi dargli l'intro perché sennò ogni giorno noi vediamo migliaia per experience è stato il tuo topic esatto ci ho speso parecchio tempo ho fatto documentazione che a quanto pare è piaciuta molto quindi ci ho speso parecchio tempo se non è arrivato fino al 2020 e lì l'ho rilasciata guarda per farti una domanda una curiosità che ho sempre avuto ma Ziggy Creatures che è la tua org su Guitam l'hai creata specificatamente per il progetto e che origine ha allora in realtà avevo bisogno di un qualcosa che fosse facesse da cappello diciamo per eventuali altri progetti che poi sai la classica cosa compri dieci domini e poi non rilasci niente quindi ho altre due tre cose che sono lì pronte non pronte sono potenzialmente rilasciabili ma non ho ancora rilasciato niente e ho detto devo trovare un nome che le metta insieme e mi è venuto in mente a caso quel nome perché stavo anche ascoltando Bawi da qui Ziggy Stardass eccetera e ho detto beh mi serve un logo allora mi piace disegnare ho fatto il disegno del Bradipo hai disegnato tu? sì 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 le istruazioni non c'era ancora la AI no no che c'era ma anche adesso che c'è non l'ho fatto fare scusa hai citato AI AI o IA come diceva Valeria come dice Pagni AI è questa invece artificial intelligence AI è questa ok anche perché per me io lo uso anche come valvola di sfogo diciamo sia la parte di codice che la parte di documentazione le illustrazioni il log eccetera per me è anche un modo per dire ok devo comprimere un attimo disegno scrivo documento eccetera e lo uso ci abuso quello per sfogare un po' quella parte guarda che c'è Diego che ha scritto che il team di Helicode ti venera come una divinità quindi avete mirato proprio male comunque grazie Diego guarda è qua fagli tutte le domande scomode che vuoi perché lui oggi risponderà a tutto è vero a qualunque cosa digli anche fagli quelle domande che piacciono ai maintainer tipo come mai non hai ancora messo questa feature che ti chiedo da due anni potete aprire delle issue direttamente in chat e lui ve le emergerà in diretta faremo anche faremo code review e lui ve le emergerà in diretta blind merge così blind esatto con release assolutamente ecco allora facciamo un attimo in passo indietro perché non credo che tutti sappiano che cos'è Fusion Cache naturalmente il nome ci sta così ci punta verso un potenziale uso di caching ma che cos'è di fatto anzi facciamo così a quale problema risponde a quale esigenza risponde Fusion Cache è una libreria di caching che in particolar modo è nell'ambito .net cerca di andare oltre quelli che sono i limiti e i casi anche un po' più comuni per quanto non risolvibili direttamente con le astrazioni presenti nel framework e cerca di appunto farlo in un modo il più possibile user friendly in modo in cui come dicevo prima it just works quindi con anche dei default diciamo intelligenti in modo che funzionino nella stragrande maggioranza dei casi ma laddove sia necessario andare un po' a configurare a poter cablarlo sulla propria realtà in particolar modo nel mondo .net esistono due astrazioni che arrivano da Microsoft che sono iMemory Cache e iDistributed Cache che sono due interfacce che modellano cache memoria cache distribuita generiche ad oggi quello che un programmatore può fare è utilizzare o una o l'altra intanto essendo due interfacce diverse crei una dipendenza con l'una o l'altra quindi di solito la gente cosa fa parte in piccolo e ha la dipendenza con la cache in memoria poi ha problemi di scalabilità scaling verticale arriva fino a un certo punto va in un orizzontale quindi multinodo a quel punto hai bisogno di coordinare la cache su più nodi allora passi a quella distribuita devi aggiornare il codice devi cambiare tutte le millemila chiamate get set eccetera questa è una delle problematiche da questo punto di vista Fusion Cache si propone come una astrazione diciamo che non dipende direttamente né da una né dall'altra ma sotto le usa usa sia memory cache che volendo opzionalmente anche distributed cache come secondo livello quindi Fusion Cache è sia cache diciamo in memoria con delle feature in più che adesso poi diremo e anche come cosiddetta hybrid cache quindi cache multilivello e questo è importante perché quando si ha la necessità di scalare orizzontalmente su più nodi o quando si ha la necessità di sopravvivere durante magari un black friday a un riavvio di una macchina la cache in memoria ha tanti vantaggi perché la data locality è atomica perché è vicino è nella stessa memoria del processo che utilizza i dati però per esempio è in memoria quindi per definizione l'applicazione si riavvia ed è vuota il cosiddetto cold start quindi una cache fuori out of process tipicamente un ready un memcache una cosa di questo tipo ti aiutano partendo ad avere già i dati diciamo in memoria in cache di contro la cache distribuita ha dei pro appunto sopravvive a cold start eccetera è distribuita ma ha di mezzo network request disserialization disserialization cose di questo tipo e quindi diciamo i pro della memoria sono i contro dei distribuiti e viceversa quindi l'idea sarebbe mettere insieme i due livelli avere una cache cosiddetta multilivello il problema se lo si fa da zero è coordinare la danza tra i due livelli perché non è facile per niente aggiorni uno devi aggiornare l'altro arriva la modifica devi riportarla su uno però non puoi mettere sempre tutto in cache memoria perché hai un certo limite quindi sono tante tante problematiche l'idea di Fusion Cash è proporsi come la soluzione a queste problematiche con in più una serie di funzionalità che io ho pensato negli anni relative alla parte di resilienza su problemi transienti spesso e volentieri tutto funziona tutto va bene finché non succede che c'è il patatrack che può essere il cambio di topologia di rete non previsto il database è giù il database è su ma risponderà in modo lento perché è sovraccaricato da una query perché c'è il board meeting devi lanciare la mega query e rallenta tutto cose di questo tipo time out Fusion Cash ha una serie di funzionalità specificatamente pensate e progettate per permettere di andare oltre queste piccole problematiche in un modo tale per cui l'utenza finale quindi chi usa le vostre API ai vostri siti può non accorgersene nemmeno quali sono i competitor di Fusion Cash? allora esistono alcune librerie nell'ambito dotnet la più famosa che mi viene in mente è quella che esiste da più tempo diciamo è la cosiddetta la OG l'originale cash che previene cash stampidi che è uno dei propri principali di cui poi parleremo è Lazy Cash Lazy Cash è una libreria kudos oh mio dio non ricordo il nome in questo momento Alastair Crabtree che è l'originale creatore detto ciò Lazy Cash è una memory cash con protezione di cash stampid fine fa quello lo fa bene lo ha fatto bene per anni ma si limita a quello non ha il secondo livello opzionale non ha le fissure di resilienza non ha tutta una serie di altre cose che diciamo invece Fusion Cash ha altri più recenti posso pensare a Cash Tower dell'australiano James Turner che ho conosciuto tra l'altro all'MP Summit l'anno scorso di persona e che ha un approccio simile ma diverso ha meno feature legate alla resilienza cose di questo tipo ma ha potenzialmente i livelli di cash infiniti cosa che spesso viene facile a pensare ma perché due livelli perché non tre quattro e cinque è una scelta pragmatica che ho fatto all'inizio ho preso una strada per cui i livelli concretamente nel mondo reale secondo me due bastano e avanzano e ad oggi diciamo sembra che abbia avuto una ragione nessuna issue è arrivata perché è il terzo livello che potrebbe essere perfetto assolutamente no ma di contro sapere che ce ne sono due e che il primo è in memoria è sempre presente e il secondo è distribuito ed è opzionale mi permette di fare ragionamenti più affinati di avere una lista di livelli che non si sa cosa sono certo che permettono di avere quelle feature di resilienza che altrimenti non potrei offrire diciamo e che sono molto utili guarda io intanto ho una domanda ma prima ti chiederei di spiegare velocemente se ti va che cos'è il cash stampede esatto mi hai rubato le parole di bocca è il problema io pensavo che fosse un riferimento a Vash no non c'entra Trigan penso no no cash stampede è diciamo la problematica più nota nel mondo della cash e consiste fondamentalmente immaginiamoci una richiesta che arriva ai nostri servizi al nostro sito web per il prodotto 1.2.3 classico il prodotto 1.2.3 andiamo a prenderlo sulla cache non c'è in cache quindi andiamo su database lo carichiamo lo mettiamo in cache e poi siamo a posto tutto bello se non che nel momento iniziale in cui il prodotto non è in cache o nel momento in cui scade dalla cache quando passa la cosiddetta expiration o duration a livello pratico la stessa cosa in cache non c'è in quel momento senza un controllo più preciso dell'accesso diciamo alla cache al database mille richieste arrivano mille richieste vanno sulla cache mille richieste non lo trovano mille vanno su db mille tornano mille lo salvano in cache e via così quindi è uno spreco enorme nello stesso identico momento più o meno arrivano mille richieste ne basta che ne passi una quindi tipicamente uno degli approcci più noti per superare il problema di cache and pid sono fondamentalmente due uno che non lo supera per davvero che si chiama eager refresh quindi poco prima che scada la cache vai a rinfrescare il dato ma questo non ti risolve il problema della prima richiesta la seconda invece è tipicamente utilizzando un sistema di locking o mutex e quindi coordinando l'accesso ottenendo alla fine quello che in pratica è una variante del cosiddetto request qualashing quindi n richieste diventano una e poi torna indietro il dato è condiviso con tutti e da questo hai preso spunto come implementava il risolvere il problema l'ese cache o hai cercato di inventarti completamente diverso completamente diverso l'ese cache piccolo inciso memorizza all'interno della cache un cosiddetto l'ese da lì è il nome un oggetto l'ese che è nativo di .NET che ti permette di avere accesso a questo sorta di meccanismo di locking però memorizza direttamente quello il problema è che con accesso a sincrono usi l'ese con accesso a sincrono usi a sync l'ese che è un'altra cosa che non è nativa del framework che è stata fatta da una libreria a parte e quindi il rischio qual è che se tu hai delle richieste che arrivano e alcuni sono a sincrono e altri sono a sincrono devi mixare i due mondi non è così facile e in più è un approccio che poi non funziona allo stesso modo anche quando se pensiamo alla parte distribuita dove devi di serializzare serializzare eccetera l'approccio che preso io è con un meccanismo di locker in memoria per cui tramite lock mutex eccetera in dettaglio in questo momento semafor slim la classe .NET coordino l'accesso però è un dettaglio può cambiare domani continuo a fare delle sperimentazioni su modalità ottimizzate d'accesso per esempio una roba che è molto intrigante sto provando da tempo un approccio probabilistico che fondamentalmente usa una variante del problema dei compleanni del paradosso dei compleanni scusate per cui fondamentalmente riesci ad avere meno consumo di memoria rischiando raramente dei conosci? no cos'è il paradosso dei compleanni? però se i compleanni continuo a farle io non vi preoccupate ma certo Claudio non sai cos'è vai spieghi molto velocemente ma è anche intrigante per chi non lo sa quante persone servono in una stanza per essere sicuri al 100% che due persone abbiano il compleanno allo stesso giorno non dello stesso anno ovviamente 365 lasciamo stare i business style con quello abbiamo 366 scusate perché due ok quante persone servono per avere almeno il 50% di probabilità di avere due persone con lo compleanno allo stesso giorno uno può pensare alla metà no 20 e rotte persone forse poco meno di 30 bastano e praticamente non è sicuro ma il 50% dei casi è così l'ho provato anche le prime volte che studiavo questa cosa l'ho provato in pratica ed è vero bastano dai 20 ai 30 persone e 9 volte su 10 cioè metà delle volte qualcuno che c'è il compleanno a soggiorno questo si ricollega al fatto che per esempio mentre l'approccio attuale quello classico che usano tutti è di avere un mutex un lock per ogni singola chiave di cache questo è importante dirlo le richieste per prodotto 1 e per prodotto 2 non si bloccano a vicenda tutte sono bloccate per l'uno e per l'altro l'unico modo per fare questa cosa in maniera assoluta con una certezza assoluta avere un lock per ogni chiave di cache se abbiamo tante chiave di cache sono tanti lock che vanno gestiti eccetera l'approccio probabilistico dice quante chiave di cache quanti lock posso usare per far sì per essere abbastanza sicuro che non ci siano queste collisioni e la risposta diciamo che può sorprendere è quella relativa al paradosso ossia non ne servono così tante perché il problema non è che due chiavi collidano sullo stesso lock ma che lo facciano nello stesso istante cosa che abbassa di molto la probabilità che succeda questa collisione però questo non dà la garanzia quindi possono esserci blocchi e quindi non è la versione diciamo intanto saluto Calogero Giuliano e anche Luca che è appena arrivato e ha subito detto che in Spark abbiamo dimostrato in pratica il paradosso del compleanno in Spark ci sono alcune persone che comprono gli anni lo stesso giorno siamo 50 un po' più di 50 54 adesso quindi su 365 siamo a dimostrazione pratica empirica tra l'altro Stefano chiedeva se l'agenziana ha contribuito a qualche sessione di coding su collision cache sì soprattutto in Abruzzo genziana che sarà un prossimo sponsor di questo podcast però da questa domanda voglio farti un'altra qual è la tua sessione di coding perfetta ideale musica una camina continuous delivery di sottofondo qual è il tuo focus momento di focus massimo direi sicuramente aver bevuto qualcosa ok che rilassa un po' i nervi e cuffie e musica musica però nel mio caso ascolto un po' tutto però quando faccio sessioni di coding è o classica o reazioni o jazz o cose di questo tipo e l'alcol invece una birretta ti aiuta a concentrarti sì alle volte sì non sempre ma alle volte sì alle volte c'è il tè caldo alle volte c'è la birra o il vino quello che è hai provato a fare poi una code review dopo una sessione fatta una volta con l'alcol una volta con il 6 per vedere se parliamo di fusion cash le code review le farei a me stesso vabbè però immagino che adesso ci sarà una community che magari ti aiuta un po' anche in questo allora devo dire nelle ultime tre settimane sono arrivate un po' di pure quest un po' di contribuzioni e storicamente devo dire non così tante cosa per cui all'inizio sinceramente ho pensato ma non se lo usa nessuno oppure come è la cosa oppure va tutto bene così quindi non c'è bisogno infatti i download non sono male come numero è un numero devo dire onesto che ci porta la domanda infatti qual è stato l'impatto sull'ecosistema di fusion cash perché mi pare che tu sei arrivato in un momento in cui esisteva l'easy cash che era un po' standard de facto per risolvere un problema il resto erano tutte implementazioni custom sì c'erano alcune altre le altre che posso nominare mi viene in mente sono cache manager e easy cash tra parentesi sulla parte bassa del repo di fusion cash c'è una comparison dove ho cercato un po' di dividere per feature più che altro chi ha cosa e detto questo l'impatto allora diciamo la risposta che ho avuto dalla community è stata di persone che l'hanno usato mi hanno ringraziato è stato molto positivo tra parentesi la cosa classica che si sente ogni tanto nei meme sull'open source tipo ah domani devo fare sta roba fai uscire quelle cose un po' aggressive perché non c'è questa feature muoviti certo quello che chiedevano prima è in chat esatto ad oggi non mi è mai capitato quindi meno male sono perché tu sei nel mondo .net lì sono tutti buoni se ti sposti sul mondo javascript lì iniziano i casini vediamo vediamo dipende dipende dai casi comunque l'impatto che ho avuto personalmente è stato di persone che mi hanno contattato hanno chiesto feature oppure mi hanno chiesto come faccio a fare questa cosa e questo mi ha dato il via un po' a spiegare e un po' anche a migliorare la documentazione perché in alcuni casi era beh per me è chiaro come fare questa cosa ma se me lo chiede uno o due vuol dire che magari non l'ho reso così chiaro e quindi migliorare la documentazione sia nel codice sotto forma di degli cosiddetti intellis eccetera direttamente per la fase di discovery quando uno prova a vedere la libreria non legge niente e la parte di documentazione online quindi quello è stato molto utile poi lato lato impatto quello che posso pensare per esempio è svariati progetti mi hanno contattato per mi hanno raccontato un po' come l'hanno usato e quello che diciamo che posso aver scoperto in questi anni è stato progetti microservizi monoliti web API applicazioni mobile giochi mobile in 3D dove usavano fusion cache con un livello in cache distribuito lì è stato interessante perché mi hanno detto guarda noi abbiamo un'applicazione mobile in 3D fatta in C sharp usiamo fusion cache bellissimo però avremmo bisogno di un qualcosa per gestire i cold start però non possiamo usare una cache distribuita perché è sui cellulari quindi ti viene in mente qualcosa ci abbiamo ragionato insieme e una cosa che è venuta fuori esisteva un'implementazione dell'interfaccia i distributed cache quindi l'interfaccia generica però su SQLite quindi in realtà non era distribuita era semplicemente out of process che su un cellulare è perfetto quindi ho trovato l'implementazione hanno visto 2 o 3 ho suggerito quella che secondo me era l'implementazione più carina fatta meglio ho detto provo a usare questa hanno usato quella io non l'avevo mai vista prima l'hanno messa rispettando l'interfaccia comune ha funzionato mi hanno ringraziato adesso lo stanno usando eccetera e un'altra cosa mi viene in mente visto che mi chiedi dell'impatto poco prima di Natale un mini annuncio e settimana scorsa poi magari vi giro il link se può interessare hanno fatto una community stand up quelli di Microsoft perché in un loro prodotto che si chiama Data API Builder che è un prodotto di Microsoft open source ma di Microsoft ho visto la slide l'hai visto? hanno usato hanno introdotto caching e mi hanno contattato e mi hanno detto guarda abbiamo introdotto caching usando Fusion Caching e insomma è stato un bel impatto applausi usarlo ah no ok l'abbia c'è stato applausi no in realtà ero rimasto ancora la domanda prima ma scusami un videogioco C Sharp su mobile come è possibile? gli dettagli non li conosco è un fake non è vero niente ipotizzo no 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 se mi hanno raccontato un fake non lo so no no ma figurati ci sarà un engine che va credo non so se Unity arriva perché Unity alla fine si programma spesso in C Sharp quindi non so se arriva anche su mobile credo di sì 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 c'è l'esposto sicuramente c'è l'esposto quello credo sia quello non ho chiesto più dettagli nel momento della parte di cache e mi ha gasato wow su mobile ma li hai messi poi tra i credits oppure tra gli utilizzatori non mi viene la parola adesso no no una cosa che però mi piacerebbe fare è chiedere chi vuole chi vuole farmi sapere come l'hanno usato e la possibilità di pubblicarlo perché mi piacerebbe fare l'elenco e dirlo adopters esatto bravo gli adopters esatto vedi per quello non devo bere c'è una domanda di Stefano che impatti ha avuto spero che sia un fake secondo me questa qui la fatta generare da chat GPT infatti che impatti secondo me ha letto la scaletta e ha anticipato la domanda dopo che impatti ha avuto nella tua vita la professionista software essere il mantener di un progetto che ormai ha una certa rilevanza Mimmo 3 ti ha riconosciuto ma ma sei tu sei quello di Fusion Cash per te la pizza è gratis ma no devo dire a livello professionale diciamo però tu sei stato dopo che Seattle e lì immagino diverse persone abbiano sì ho avuto modo di contattare diciamo di parlare con alcuni e a Seattle per inciso all'MVP Summit quindi altri MVP eccetera Microsoft non solo e ho avuto la possibilità di parlare con alcuni del fatto che lo utilizzano come lo utilizzano perché eccetera è bello validare anche sulle applicazioni esattamente e tra l'altro ho parlato tutto l'MVP sotto NDA però questo lo posso dire ho avuto modo di parlare di persona con alcuni membri del team di .NET in particolare del team che lavora sulla parte di cache e con cui avevo parlato su GitHub perché adesso c'è diciamo di .NET 9 che è la nuova versione che uscirà a fine anno e in questa versione stanno lavorando sulla nuova memory cache e la nuova distributed cache e la nuova hybrid e quindi io ho detto a gamba tesa sono entrato perché hanno proposto adesso ho fatto tutto in the open e quindi questa è la proposta cosa ne pensate commenti a raffica e ho dato anche il mio mi sono un po' dilungato infatti adesso è diventato noto come i mega comment perché ho fatto dei commenti tipo su guitar di 6 pagine però diciamo ho cercato un paper eh no ho cercato di considerare di diciamo di condensare in un unico punto quella che sono le mie esperienze quindi ho detto farò il pippone però almeno c'è in un punto unico vano per evitare 12 commenti separati e quindi poi a cui mi hanno scritto oh grazie mille utilissimo domani ho preso due ore diciamo di buco nella mia agenda perché voglio leggere tutto e risponderti perché fa merita però ho bisogno di un po' di tempo esatto e ho avuto modo di contattare di parlare con alcuni lì ci siamo scambiati informazioni cose varie ah già di fusion cache siamo messi in un altro molto carino però infatti domanda di Stefano quindi comunque essere mantenere di un progetto open source ti ha dato la possibilità di arrivare addirittura a parlare con i maintainer di dotnet già ti presenti con qualcosa di più che un adopter di una tecnologia esatto per esempio l'anno scorso al summit diciamo girava un po' meno il nome quest'anno parlando con qualcuno ah già di piacere fusion cache ah fusion cache mi fa molto piacere partecipare al mio piccolo al design di queste nuove estrazioni di queste nuove cose perché puoi dare il tuo contributo alla tua esperienza perché Microsoft è Microsoft e chi ci lavora sono dei draghi clamorosi detto ciò i punti di vista e le esperienze che ha ognuno di noi sono diverse quindi banalmente il caso raro la cosa se riescono a saperla includere nel design prendono una fetta maggiore di pubblico o supportano più casistiche e marche per loro certo domanda che non ho scritto in scala di te quello che tu hai fatto con fusion cache è specifico per .net giustamente però quello che tu hai fatto in .net sarebbe portabile su altri linguaggi altri framework o è molto molto verticale molto specifico allora in generale l'approccio gli approcci che ho preso sono credo usabili su qualunque altro linguaggio ovviamente ci sono alcune cose che sono specifiche di .net per esempio il fatto che fusion cache ad oggi sia basato sulle due estrazioni se quelle estrazioni non esistono da un'altra parte per reimplementarle esattamente e perdendosi un pochino alcuni vantaggi per esempio per quanto le due interfacce che ho nominato prima i memory cache e i distributed cache abbiano i loro limiti perché le funzionalità non sono così estese eccetera e quindi di riflesso fusion cache non può andare oltre alcuni di questi per ora non dico altro spoilerino però di contro per esempio soprattutto per la parte distribuita i distributed cache ha una marea di implementazioni esistenti radis memcache che ne so io c'è cosmos db mongo db la qualunque sql server sql client avevo a disposizione tutte quelle implementazioni e quelle future c'è gente che ha fatto implementazioni dopo la nascita di fusion cache e vengono usate con fusion cache e fusion cache non lo sa neanche proprio perché è una strazione comune e chi vuole l'implemento c'avevi una domanda una domanda fuori scaletta ma una battuta veloce che licenza hai scelto per MIT e perché MIT perché allora non sono un esperto oltre a IANAL non sono proprio anche un esperto non ti sei sentito prima con Richard Stallman per fare un l'ho chiamato ma avevo un aperitivo no no semplicemente per quella che era la mia esperienza la più permissiva e meno problematica e anche quella che forse per chi non è addetto ai lavori impaurisce di meno era l'MIT e ho pensato perché no l'ho letta un po' mi sono studiato due cosine giusto per vedere qualche caso e ho preso quella è molto permissiva alcuni dicono anche troppo detto ciò per me è un non è un problema chi la usa cosa ci fa è lì usatela bravo Diego a me non era venuto in mente ma effettivamente ne ho parlato anche di recente ma Garnet innanzitutto come si pronuncia non ci ho mai parlato con i ragazzi di Garnet di persona quindi non ho la pronuncia detto ciò credo sia proprio Garnet vuol dire granito in inglese quindi ah ok in realtà io pensavo a Garnet perché c'è un giocatore di basket Garnet Garnet è il granito in inglese quindi mi immagino che sia Garnet quindi non è Garnet neanche Garnet che è sponsor ah no quindi Garnet molto interessante infatti com'è allora si è creato tra l'altro ho avuto due settimane di fuoco in cui rilascio la 1.0 di Fusion Cash che era stabile da tempo però sai il bollino lo volevo avere e alla fine l'ho fatto il 29 febbraio volevi essere libero di rompere tutto cosa che non ho quasi mai fatto nella 0.0 ho fatto qualcosina ma poca roba però a un certo punto ho detto no voglio dargli il bollo e quindi ok uscito quello in due settimane praticamente c'è stato di tutto c'è stato Summit c'è stato la parte di Distributed Cash Hybrid Cash contribuzioni Megacomment che dicevo prima e qualche settimana dopo è uscito anche Garnet dalla Microsoft Research che ed è uscito più o meno in contemporaneo quando Redis ha cambiato licenza eccetera eccetera è Protocol Compatible quindi la 1.0 è recente la 1.0 di Fusion Cash 29 febbraio ah ok ho beccato il giorno tra l'altro bisesto quindi due anni di beta tre anni di beta sì 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 in realtà ho usato in produzione come dicevo da tempo quindi tanti mi dicevano no no ma io lo uso non ho problemi però so anche magari di qualcuno che magari può averlo visto ha detto ah zero punto vabbè aspettiamo anche se in realtà milioni di download o bevare però comunque esce Garnet e Redis cambia licenza eccetera eccetera la cosa interessante è che quando è uscito io ho visto Protocol Compatible con Redis il classico RESP che è la lingua franca sullo cache distribuito dico ah c'è uno al giorno esatto allora ti basta usare l'interfaccia di Redis c'è l'implementazione per Redis di A Distributed Cache ho detto bella collego con access string finito e infatti ho detto ah da oggi si può già usare con quella lì ipotizzazione dicono che è compatibile quindi dico ah non solo vuoi usarlo non in maniera diretta diciamo a basso livello ma avere una roba più alta con più feature eccetera Fusion Cache si appoggia e quindi lo puoi usare anche lì faccio la cosa un po' di light però non ho ancora testato aspettate ah quindi hai fatto un annuncio senza testare ho detto da quello che dicono dovrebbe essere così su carta poi vi aggiorno faccio una prova e scopro che non va però da lì nasce una cosa meravigliosa scopro che non va vado un po' a indagare debago un attimo perché perché l'implementazione di Redis per .NET di A Distributed Cache per un solo comando la set l'imposta al valore utilizza l'UA come linguaggio di scripting di Redis l'UA non è tra le feature supportate nativamente da Garnet Garnet supporta il protocollo di rete ma non l'UA e quindi dico cavoli che peccato prima cosa apro un ticket sul repo di Garnet dicendo se fate un'implementazione vostra di A Distributed Cache che spoiler sono tipo 6 metodi 4-5 metodi 6 metodi e dovrebbe essere per voi veloce potete avere un adoption molto maggiore cioè al volo ve lo usano non solo lo userebbero anche nei progetti che dipendono da A Distributed Cache tipo Fusion Cache eccetera e lo butto a tali la palla dall'altra parte parlo con Mark Ravelle eccetera e dico è così necessario che ci sia l'UA scripting per un'azione così forse si può fare apre il ticket Mark e parte lo sviluppo della nuova versione che sarà in .NET 9 che non userà più l'UA tale per cui si potrà usare direttamente anche con Garnet e in più adesso stanno parlando sul repo di Garnet se fare o meno l'implementazione specifica per Garnet con magari l'ultimo miglio si è ottimizzato specificatamente per quello mentre l'altro è RESP generico quindi sono scatenati un botto di sviluppi comunicazioni è stato molto bello perché è una participazione molto forte con la community legata poi anche al fatto della Distributed Cache nuova di Fusion Cache tante cose è stato molto bello e spero che sappiate più o meno di cosa stiamo parlando perché Garnet fondamentalmente è un database che possiamo considerare un replacement drop-in per Redis sviluppato in .NET sviluppato in .NET è un'alternativa a Redis di fatto utilizza lo stesso protocollo RESP quindi le stesse chiamate HTTP di Redis quindi se tu hai dei client a Redis tecnicamente dovresti poter switchare il database passare da Redis a Garnet e mantenere le stesse chiamate esatto da quello che ho letto supportano il protocollo forse c'è qualche microcosina che ancora non supportano ma lo stanno facendo è molto solido lo usano già all'interno di Microsoft da anni i Azure lo usano già in produzione data service però loro stessi dicono occhio che è uscito tipo ieri da Microsoft è usato su milioni di macchine in Microsoft però siamo noi quindi c'è la virgola la sistemiamo siamo a posto voi buttate un occhio testate eccetera detto ciò io l'ho provato l'ho provato in locale ed è molto molto performante tra l'altro Stefano smettila di fare domande vini qui scusa prendi il microfono e chiedi scusa leggi tutte le domande sue non ho capito Claudio leggi tu le domande parli molto della community internazionale ma dall'Italia che feedback hai avuto? devo dire molto positivi beh Diego è diventato un fan subito guarda divinità su allora su GitHub qualcuno c'è qualcun italiano c'è scrive in inglese ovviamente per il bene di tutti ma diciamo qualcun italiano c'è altri mi hanno scritto magari su LinkedIn o su Twitter domande cose eccetera e no ho avuto un buon diciamo un buon impatto compreso settimana scorsa credo un tizio che mi ha contattato su LinkedIn dicendomi semplicemente grande fusion cash lo sto usando per un progetto personale volevo solo dirti grazie se hai bisogno di qualcosa dimmi è stato bellissimo poi guarda sono a posto però se ti va di raccontarmi e mi ha raccontato un po' lo stanno usando in un ambito porno e quindi fusion cash con il porno bellissimo e questo è italiano poi ne parliamo infatti eh no devo capire c'è una startup non dico altro anche perché non so molto altro però mi ha curiosito questa cosa beh perché loro devono gestire un po' di traffico se ci fosse lì se gli adopters esatto metteresti subito prima quello poi microsoft bene ma senti invece comunque un minimo di promozione uno quando fa un progetto anche se non ci vuole guadagnare dei soldi però in ambito open source comunque un minimo di marketing tu hai disegnato un logo hai avuto l'idea della org su github ma tu hai pensato hai gestito gestisci una certa promozione marketing di questa library sapevo che ci eresti giustamente arrivato e ahimè la risposta è no perché sono un devrel non ho granché da insegnare o meglio da raccontare diciamo un'esperienza faccio quello che per me diciamo il minimo non voglio sono anche nella condizione in cui diciamo mentalmente non mi va di spingerlo troppo in ogni angolo ogni dove quello che faccio è sul mio account twitter pubblico gli aggiornamenti delle versioni e più eventuali features su cui sto lavorando quindi lì escio su github eccetera e che altro faccio una fatica boia a menzionare fusion cache su issue non tanto di altri perché quello sui competitor non lo faccio ma per esempio anche sui repos di github su di microsoft tipo ah nuova cache ho fatto veramente fatica le prime volte a dire questo è esuato anche lì nel mio progettino ogni volta shameless plug no scusate non vorrei perché mi sembra quasi poi in realtà nel caso di microsoft voglio dire è la loro community open source infatti non hanno problemi ci mancherebbe sono io che paranoia diciamo e no quindi quello che altro quando qualcuno mi invita che parte faccio una fatica boia andare perché davanti nella camera o sentire la mia voce è un imbarazzo mortale però no infatti in copertina vedrete non la faccia di Jody ma un disegno della faccia di Jody ma non hai un tuo blog personale potresti tentare questa strada visto che ti piace scrivere documentazione ti piace lo trovi necessario mi piace anche infatti la documentazione sul repo è tutta nel repo online si stavo collegando alla storia di Salvatore Sanfilippo che comunque ha usato il suo blog personale all'epoca per raccontare Redis nel day by day e quello sicuramente ha aiutato un po' anche le persone a fidarsi ad avvicinarsi al progetto ad adottarlo ciò che è stato tante volte anche amici mi dicono fai un blog X ormai da lasciar perdere però però non ho mai avuto il là forse come per il progetto open source a un certo punto avrò un momento in cui dirò vabbè dai forse ho abbastanza da dire per aprire un blog non ho mai sentito di avere abbastanza diciamo da dire per farlo il mio modo per farlo è stato invece che il blog il progetto open source forse adesso ad accompagnamento anche casi d'uso cose che non posso mettere tutte le volte nella documentazione perché non sono proprio della documentazione potrebbe aver senso potrebbe aver senso avere un blog ma credi che potrebbe diventare la tua professione fare occuparti full time di un progetto open source come Fusion Cash magari da diversi punti di vista che ne sono la tua community magari ti sponsorizza per continuare a svilupparlo con un Patreon ad esempio oppure un HolyFan in senso non so la community ognuno sceglie in mezzo che preferisce allora ti è mai venuto in mente per quanto mi piace lavorarci sì mi piacerebbe lavorarci full time sì mi piacerebbe idealmente in un mondo ideale l'idea però che per farlo dovrei fare molto più marketing raccolta fondi cose di questo genere e questo un po' ti frena mi frena e preferisco che rimanga la mia diciamo il mio angolo felice la mia valgola di spogo nessuno mi impone deadline nessuno mi impone cose poi io stesso me le auto impongo e cerco di però tolto quello nessuno arriva devi fare entro domani questa cosa o cose di questo genere il design è mio faccio tutto dal design dal codice c'è tutto quindi è il mio equilibrio diciamo per essere così tanto è vero che per esempio non accetto neanche donazioni sponsorship né niente in realtà quello più perché mi sembra di aver preso quello che dicevo all'inizio mi sembra di aver preso negli anni e decenni ormai talmente tanto dalla comunità open source che dare indietro ti sembra il minimo esatto poi adesso appunto è un progetto mi ha preso veramente tanto tempo però è un progetto quindi mi mantieni per cosa il minimo che posso fare detto ciò mi ho fatto anche un pensiero una volta la community open source mi ha dato tanto ma ridandolo indietro io l'ho dato indietro a tutti non a quelli che mi hanno dato però vabbè magari anche a loro però in realtà capisco questo discorso qua però c'è anche un discorso non ti senti a volte responsabile di eventuali errori che introduci che magari potrebbero rompere progetti di altri sempre è un peso è questo che si diceva perché abbiamo visto recentemente il caso di XZ piccola libreria chi se ne frega maintainer probabilmente lo faceva anche come te come valvolo di sfogo come part time quando riesce poi succede quello che succede burnout burnout e tutto insomma in quel caso è andata male poteva non andare così male poi insomma è andata così poteva anche essersi qualcosa di più piccolo tipo per un errore di distrazione introdurre qualcosa che apriva una porta insomma qualcosa di brutto ecco è vero che tu dici io do indietro non sono però d'altra parte quando un certo numero di progetti iniziano a dipendere dalla tua libreria allora il lavoro che tu fai ha anche un'importanza a volte cruciale perché insomma in questo caso abbiamo visto che era cruciale assolutamente sì e la risposta è che non c'è nulla che si può fare cioè o non lo fai o se lo fai e non ti fila nessuno ok non hai quel problema ma poi diciamo non è andato così bene il progetto o se il progetto va bene è la conseguenza naturale e ci devi ci devi avere a che fare con questa cosa non non ho una soluzione bacchetta magica nel senso è per definizione oppure l'hai portato fino lì ti prendi diciamo gli applausi lo dai a qualcun altro e quindi tu non hai più quel peso però di contro hai il rischio che diciamo di ZX eccetera eccetera devi sapere a chi lo stai esatto quindi in questo momento le PR ne ho accettate credo due o tre più un paio di type nella documentazione cose così però molto mirate cose piccoline e quindi sono andato proprio con piano piano riga per riga dovevo essere sicuro poi ho tutta la batteria di test se non ricordo male quando faccio girare sono 600 700 test che girano con permutazioni di valore cose varie quindi se uno mi fa una modifica e spacca qualcosa non dico che me ne accorgo perché ovviamente non è perfetto tutti i software hanno bug però diciamo realisticamente cose le becco recentemente mi erano segnalato uno che in effetti è un bug e adesso l'ho già risolto non ho ancora riuscito la nuova versione per fortuna è un caso abbastanza raro e comunque non è così mortale ma secondo te il problema della cache a un certo punto tu potrei stabilire quando il Fusion Cache è finito perché ha risolto completamente il problema e a quel punto diventa un progetto di manutenzione bella domanda bella domanda beh considerando che c'è il famoso detto ci sono due problemi fondamentali nell'informatica dare i nomi alle cose la cache e gli errori off by one se ho risolto questo ho risolto uno dei problemi esatto esatto quindi no ti rimarrà poi di risolvere il problema del naming delle variabili sarà il prossimo progetto esatto beh lì in realtà adesso ho visto che stanno proponendo integrazioni con i vari business studio le shopper eccetera per AI che dà i nomi alle variabili quindi si beh oddio poi mi aspetto da domani var mutanda qualcosa cosa stanno AI è il training no comunque scherzi a parte ci sono beh io credo che ci saranno sempre delle problematiche anche sempre più complesse e casi balordine anche perché poi si parla di quando vai su cache multilivello hai distributed computing quindi le cosiddette le fallacy of distributed computing la latenza non è zero eccetera eccetera c'è sempre qualcosa cosa andrà a parare lo scenario distribuito ci sarà sempre qualcosa esatto faccio questo ragionamento perché ti ricollegavo a XZ dove magari con lì proprio è un progetto e tu dici ormai ha risolto il problema originale quindi rimane solo manutenzione però tu sei l'unico maintainer per i prossimi 25 anni tutti verranno a chiederti e tu magari nel frattempo hai pure perso l'interesse a fare questo ragionamento e ti dici ok che nessuno ha stabilito che il progetto è terminato ma è un progetto critico esatto quindi questo progetto c'è la famosa gambetta sull'ex case di quello lì esatto dovrebbe essere spostato magari in un posto safe esatto per te tipo le Apache Foundation di Tour potrebbe nel caso se dovesse arrivare si potrebbe pensavo potrebbe essere uno di quei casi dove dici ho risolto il 99% dei problemi ma poi aggiornano .net bisogna aggiornare anche la libreria però entri in uno scenario diciamo un po' più noioso dove non scopri più ma fai la banale manutenzione di aggiornare intanto nulla via gli algoritmi per migliorare le performance ci saranno sempre dei miglioramenti che possono fare tra l'altro cosa bella di .net da core .net core in poi è che con ogni versione loro non solo ottimizzano .net stesso quindi tu semplicemente aggiornando la versione diciamo di .net di performance ma per farlo creano nuove primitive a basso livello quindi molto molto in basso che rilasciano anche quelle open e quindi quando tu aggiorni non solo hai il codice vecchio che è più veloce ma ti danno accesso a delle primitive nuove che tu stesso puoi utilizzare per andare a basso livello quindi penso a vettorizzazione quindi sim di eccetera oppure accessi alla memoria diretti più verso mondo C se vogliamo però dove vuoi e sai esattamente cosa vuoi fare puoi farlo quindi c'è span of T memory of T eccetera quindi uno scenario challenging anche per il futuro esatto quindi quello c'è sempre e poi ci sono due cose che mi vengono in mente nel futuro diciamo perlomeno di Fusion Cash non dico della Cash in generale sono uno è risolvere una grossa problematica che diciamo per cui ho in mente un'ipotesi per una ipotetica versione 2 ma secondo me mi spungo ancora però diciamo è un problema veramente grosso 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 non problema del tipo che ad oggi c'è e la gente non lo sa e va diciamo incontro a chissà cosa ma una sorta di problematica fondamentale da affrontare che pensare di risolverla è un po' da idioti detto ciò perché no provo anche solo per vedere dove arrivo dove arrivo diciamo ma la seconda è la parte che ho inserito l'anno scorso che si chiama la parte diciamo è nel gruppo di feature di resilienza è una feature che si chiama auto recovery e che serve per ripristinare diciamo auto recover in automatico piccoli problemi transienti quindi che ne so la cash istribuita va giù self healing alla kubernetes esattamente self healing e quindi questa è una parte interessante su cui ho visto tante casistiche diverse alcune diciamo trovate da me altre segnalate dalla community e per cui ho cercato di non risolvere in maniera spiccia le singole perché sarebbero casi infiniti rincorrere all'infinito ma sintetizzare il caso base affrontare quello e risolverlo e devo dire che è stato interessante anche perché per farlo stavo impazzendo ho dovuto dovevo bisogno di vedere direttamente le cose live e ho creato un piccolo progettino all'interno del progetto il simulator bellissimo è carino si può simulare cluster di cache di nodi e quando vedi la demo che faccio solitamente il caso che uso io per fare le prove sono 4 cluster da 20 nodi quindi sono 80 nodi 4 case distribuite eccetera eccetera scasso tutto con un approccio in stile chaos engineering quindi temporaneamente simulo dei failure nella cache distribuite eccetera spacco poi reattivo non faccio niente entra in scena auto recovery e in qualche secondo diventa tutto verde perché quando è rosso è tutto spaccato torna tutto verde e l'illuso per un po' anche la botta di dopamina che funziona vedi tutto verde che si accende è una figata oggettivamente ve lo dico da solo ma è veramente carino compila quindi va comunque nel frattempo ci dice che la canzone diceva tu che mi hai preso il dotnet core o forse non era così sì Marco io non volevo leggere questo commento tra l'altro lui grande fan di Delphi ah Delphi ci ho lavorato per anni ne parlavamo prima Delphi fatto da Anders Heilsberg creatore di Turbo Pascal Delphi C Sharp e TypeScript quindi tutto lui il tuo padre sì 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 due anni di Filla Summit VP Summit due anni che non viene spero nell'anno prossimo lo contatterò prima dicendo ti prego vieni ti pago una birra anche di .net aggiungiamo oltre Delphi anche .net sì 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 C Sharp lui proprio anche lui ci lavora ah sì sì ottimo tra l'altro Fusion Cash 2.0 è anticipato naturalmente cambierai licenza anche tu introdurrai Fusion License però sarò pagato a birra e agenziana soprattutto ma rapidamente tu hai menzionato il Simulator che è un nuovo progetto open source che hai sviluppato oppure è legato no no però se noi potresti forcarlo e renderlo un progettino dovrei forse renderlo più astratto da Fusion Cash specifico a me è nata quell'esigenza mia personale di vedere quello che stava succedendo perché va bene vedere i log però la prima botta diciamo è più veloce vederlo direttamente hai usato qualcosa tipo D3 qualcosa Canvas ah no no è una console application ok e ho utilizzato lo spettacolare pacchetto Nougat Spectre Console ok che è un pacchetto Nougat che si occupa di dare diciamo grafica in stile CLI ok ok ed è un progetto separato ma è all'interno è legato sì sì è dentro scarichi il repo bello bello ho visto quando l'hai presentato effettivamente riesce è un bel effetto sì sì bello da vedere ma ti fa anche capire poi effettivamente quei sono i casi d'uso reali in cui Fusion Cash è un recovery esatto perché quando lo fai vedere mi ricordo la prima volta lo fai vedere live ero al VPC l'anno scorso la mia prima conferenza prima e unica e ho detto ok questo è il vostro cluster in produzione durante un Black Friday quando dovete vendere scopriate a ridere però in effetti eh sì in effetti lo capisco ci siamo passati tutti e poi ho abilitato ho riabilitato Backplane che ho distribuita e pum è tornato tutto verde in automatico fa tanto perché chi ci è passato in produzione durante un momento delicato sa che oh mio Dio cosa sta succedendo cosa facciamo e hai tipo il board che ti grida addosso i tecnici il sale pum in automatico si risistema appena possibile è tanta roba è tanta roba ciao Fabio intanto in ritardo ma puoi recuperare tutta la puntata in podcast da domattina o in video tra pochi minuti esatto quando finirà Paolo abbiamo 5 minuti ma vuoi provare a farla questa domanda frizzante eh quale? quella evidenziata quella evidenziata Paolo quella evidenziata giustamente non siamo preparati alla scaletta ci stiamo rodando vedi è soltanto 3 anni però effettivamente è un po' legata la domanda che avevo già fatto prima se ti sei mai immaginato un business model legato ad un servizio SaaS per Fusion Cache magari un admin interface o qualcosa che ti permetta di accedere oppure quando inventerai la tua Fusion License di separare la versione community adesso una open core dalla 2.0 open core in Fusion Cache non è vero 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 non ti è mai venuta questa idea o pensi che ci si potrebbe fare un business attorno per la cache stessa in SaaS no anche perché dietro utilizza i vari reddice eccetera e non puoi pensare di avere un SaaS dove metti introdati scollegato da altre cose potrebbe essere un servizio a parte su un enterprise dashboard with AI 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 esatto no allora un dashboard potrebbe essere però ti dico la verità guarda sinceramente mi attira di più l'idea di farlo senza avere il fiato sul collo delle cose e regalarlo se riesco a farlo a posto così piuttosto che farci un business sopra su una cosa così e poi avere licenze ok tu hai proprio raccolto lo spirito dell'open source cioè non usi l'open source per fare un tuo business perché oggi è il modello di riferimento perché proprio vuoi dare indietro ma ti dirò di più il fatto che cancelleremo questa puntata il giorno che farai il business non ti preoccupare no no deve restare chi cambia deve restare poi è liberissimo ma le tracce devono restare no inizialmente Fusion Cash era su su github come tipo slash giolidonetti il mio user slash Fusion Cash mi mandava male avere il mio nome appiccicato sembra paranoio lo so sembra che mi voglio fare pubblicità da solo che è un unice deficiente stai regalando mesi di lavoro della tua vita perché no allora da lì è nato Ziggy Cricius faccio la org così il mio nome è un po' nascosto poi vabbè si vede che si è fatto la tua foundation si è proprio una malattia mentale però se domani arrivasse Microsoft a dirti senti Jody tu vieni lavorare da noi ti paghiamo per fare il mantener di Fusion Cash a vita e basta cosa hai dici di no? beh questo non l'ho detto infatti però questo qui è un scenario diverso non è un business model però potrebbe essere uno dei modelli della sostenibilità di progetti piccoli verticali come questo beh dal certo punto di vista attenzione Fusion Cash non ha dietro risorse intendo dire hardware esatto non hai spese quindi lo usi dove tu hai già le tue macchine e finché lo usi L1 si chiama il primo livello di cache memoria e basta sono le macchine dove girano i tuoi applicativi vuoi il secondo livello ti fai l'istanza di Redis che può essere on premise on cloud il servizio SAS eccetera eccetera quindi da quel punto di vista in teoria mi verrebbe da dire se qualcuno ha un servizio che offre tipo il Redis SAS o cose di genere Microsoft ce l'ha ce l'ha anche AWS ce l'hanno un po' tutti allora lì potrebbe aver senso per migliorare l'adozione dire se lo usi in questo modo hai tutte queste extra feature aggiuntive che portano tanto perché piano piano sto sviluppando il business model andiamo avanti mezz'oretta ancora chiamo il notaio basta un po' di brainstorming no guarda una cosa che però se mi date modo di dire visto che non abbiamo fatto giustamente la carrellata dell'efficio però per chi non la conoscesse e so che mancano pochi minuti la parte di resilienza ci sono un paio di nomi che voglio dire per chi è interessato puoi andare a vedere sul repo sulla documentazione failsafe come è un meccanismo è uno dei feature principali e cash stampede prevention l'abbiamo detto è automatico non bisogna fare niente failsafe va abilitato quindi perché ha un comportamento bisogna dire lo voglio usare e soft art timeout sono i principali anche i refresh fondamentalmente ti permettono di dire che è un po' magico la prima volta che lo senti me l'hanno detto un po' tutti metto un dato in cash per un minuto passo un minuto il dato è scaduto quindi non c'è più a quel punto c'è il cosiddetto refresh vado sul database a prendere l'altro nuovo il database è giù che succede in quel momento? errore fine così si può fare niente il dato non c'è il database non c'è ho finito confio il safe lui dice ah no c'è un problema in fase di refresh per ancora un attimino ti ridò il dato vecchio stale content esatto una sorta di stale while validating di http simile esatto simile però con un comportamento ho pensato di usare lo stesso nome ma ho preferito fare un approccio più opinionated diciamo e dargli il mio comportamento che negli anni io ho visto sulla mia pelle funzionare bene e ho detto lo offro così però il concetto è simile e quindi c'è lo stale while validate ma c'è anche lo stale on error per esempio di http ci sono approcci che io ho preso infatti lo dico anche all'inizio avendo avuto a che fare tanti anni con cash memory cash distribuita cash http cdn cash offline il vecchio app cash nei browser oggi sono i service worker le sono viste un po' tutte quindi ho messo insieme l'idea era ho messo insieme tutte queste esperienze gli ho dato una forma un po' uniforme e le ho offerte sotto forma di fusion cash questa è diciamo la cosa insomma queste esperienze mi sono fatto un po' le ossa per anni quindi insomma ho cercato siamo proprio arrivati alla chiusura quindi naturalmente questo link cioè il link al repo di fusion cash con il readme meraviglioso che hai creato e aggiornato negli anni che spiega perfettamente cosa fa come si usa eccetera li metteremo nelle note nei link e tutto quanto se poi è altra roba tu mandacela che sbattiamo anche quello quindi innanzitutto grazie mille Jody per essere venuto con noi grazie anche per il contributo che fai anzi guarda devo ancora imparare come usare questa cosa poi la birra adesso fammi posso anche farli insieme avete visto sovrapposti quindi grazie davvero tanto di essere venuto qua da noi grazie naturalmente Claudio per avermi donato questa console meravigliosa prestato per ora prestato per aver giocato un pochino vedo che qualche errore ho fatto però vedi bene o male sono i pulsanti che ancora devo prenderci la mano perché ho le dita grosse capito quindi quei pulsanti sono troppo piccoli sono pensati per grazie naturalmente a Paolo è stato meraviglioso come sempre grazie a te grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in chat mi raccomando a martedì non il prossimo ma quello dopo ah naturalmente Diego il fan numero uno di Jody è qua e salutiamo anche te ci vediamo alla prossima ragazzi grazie mille ciao ciao a tutti ciao a tutti